Signor Questore, innanzitutto benvenuto a Cremona, è la sua prima esperienza in una questura. Che cosa ha pensato quando le hanno comunicato che sarebbe venuto a Cremona? Ben trovati a tutti voi. Io devo dire che sono stato assolutamente felicissimo di venire a Cremona. Cremona è una città assolutamente bella, molto bella, e quindi sono felice di essere qua e spero di poter dare alla città quello che merita, nel senso che la città è una città estremamente gradevole, con un livello di sicurezza, come giustamente ha detto il mio collega particolarmente elevato, e quindi sta a me assicurare il massimo impegno affinché la città abbia sul piano della sicurezza quello che secondo me effettivamente merita. Ha parlato quindi con il suo predecessore? Beh, ho parlato con il mio predecessore, ho avuto peraltro tempo di seguire le vicende, e quindi ho anche avuto modo di apprezzare i risultati che lui ha ottenuto e che ha giustamente reso noto, e che sono il frutto della fatica e dell'impegno della questura, dei miei collaboratori di oggi e ovviamente anche delle altre forze dell'ordine. Certo, i dati che sono dati assolutamente positivi, però sono dati che non devono darci una indicazione, un'indicazione nel senso che l'attività va bene così e non sono necessari ulteriori sforzi, perché è chiaro che il dato poi va calato nella realtà, la domanda di sicurezza è evidentemente diversa da città a città, la Cremona, come dicevo, è una città che ha uno standard di sicurezza elevato, in cui i cittadini giustamente hanno una domanda di sicurezza elevata e quindi necessariamente il nostro sforzo deve essere mirato e puntato rispetto a questo. I dati ovviamente servono, perché noi comunque siamo dei tecnici, e i dati servono per darci un contributo sull'andamento dell'attività. A che cosa darà la massima importanza nel suo lavoro? Beh, le priorità che non sono priorità esclusive di Cremona sono, come ben sapete, le problematiche legate al fenomeno migratorio, ovviamente la sicurezza ed anche l'ordine pubblico. So bene che Cremona è una città che sul profilo dell'ordine pubblico ha tante esigenze, richiede tanto impegno e quindi sicuramente anche questa è una priorità. Grazie.